Dottore Mazzullo, lei è il direttore generale CICAS Italia. Secondo lei che cosa dovrebbe fare il governo per le piccole e medie imprese e per le famiglie? Intanto bisogna tenere subito conto che ci sono degli aspetti imperativi che devono essere assolti dal governo. Creare immediatamente la liquidità significa uscire da queste formule stataliste che continuano ad essere presenti nell'ambito del governo con questo Ministero del Tesoro che non si rende conto che la crisi è mondiale ed è la crisi assolutamente fuori dal controllo. Risorse aggiuntive sono necessarie, bisogna reperirle, ma è necessario anche in questo momento uscire da quelle che sono le formalità burocratiche. Sospendere luce, acqua, gas, telefono, ratei, obbligare le banche attraverso un fondo di garanzia costituito dallo Stato ad emettere immediatamente finanziamenti e prestiti senza rilascio di garanzie ulteriori, eliminare le due posizioni rating e la posizione CRIF sembra essenziale. Questi sono imperativi che bisogna essere e bisogna portare avanti con grande determinazione. 400 milioni date ai comuni sono irrisori, creeranno la rissa del popolo. presso i comuni non si è fatto altro che trasferire la responsabilità dal governo ai comuni. Questo non è concepibile. Dobbiamo quindi pungolare il governo affinché esso possa caratterizzare attraverso scelte fuori di misura e quindi almeno 70-75 miliardi solo per le piccole imprese e le famiglie tutte. E poi non bastano, non bastano ancora. La gestione di questa emergenza è sotto gli occhi di tutti e di questo se ne dovrà parlare prima o dopo. Abbiamo bisogno anche del sostegno dell'Europa. In questo momento c'è un po' di caos tra Italia ed Europa. Secondo lei, cosa può fare l'Europa per fermare questa crisi anche economica? Sull'Europa noi come piccole e medie imprese abbiamo già espresso il nostro principio. Io sono d'accordo con quanto ho sentito da alcuni autorevoli economisti. O l'Italia è in grado di ottenere una contribuzione solidale quindi di solidarietà dall'Europa e non già un prestito o un finanziamento fino all'importo di 250 miliardi allora l'Europa si salverà nel senso che rimarrà un'entità reale. Diversamente l'Europa è morta, non ha più senso. Seconda ipotesi che si proponga alla Francia di fare comunque i Corona Bonus i nuovi paesi che hanno aderito escludendo la Germania, la Finlandia l'Olanda se nemmeno questa ipotesi è funzionale beh all'Italia non rimane che rivolgersi agli Stati Uniti alla Russia o alla Cina l'Europa avrà terminato di essere una realtà di usurai Il disagio sociale è in crescita e dobbiamo dire che questo momento così difficile sta rendendo fragile il nostro paese ma anche in particolar modo il sud Italia per tutto questo ci sono delle soluzioni? Il conflitto sociale soprattutto nel mezzogiorno che la regione del paese più povera e meno qualificata in termini di lavoro può essere risolta solo se le famiglie percepiscono un assegno diretto a casa sarebbe bello che fosse un assegno circolare emesso dall'Europa i cittadini si sirenterebbero molto più vicini all'Europa ma se ciò non accade il governo deve provvedere ed immediatamente ad immettere nelle tasche degli italiani il necessario fabbisogno e non può essere eluso il problema delle piccole e medie imprese che non possono essere considerate ai margini della società ma che ne possono essere delubricate con 600 euro una tantum grazie a tutti